Mamma mia ho visto 10 stelle di ricerca No No E ciao a tutti ragazzi sono Adri bentornati sul mio canale Siamo alla terza ultima missione di GTA 4 The Bad of Gatoni qua con Luis Lopez Veniamo da The Man Who Has Everything E adesso andiamo alla Ladies Health Prize Che è la terza ultima missione Ed è la penultima per Tony Perché poi ne avremmo una con Rocco Poi l'ultima sarà per Tony E purtroppo Mi tocca ammetterlo purtroppo Finirà questa avventura Su GTA 4 E poi vi lascio immaginare cosa ci sarà dopo Hey Desi Hey man Tony I ain't seen him Hey man Luis Bro can you get us in Hey Brucie Yeah sure Tessi take care of them Thanks man Roman Man I'm going to see some vagina tonight You walked in with one bro What? Never mind man Hey So I'm going to go get the drinks Okay Good seeing you guys man I gotta take care of something Hey wait listen Can I just say something man Listen can I just say The way you dealt with Bori man That was really great Thank you Hey don't mention it man Unless you want me to kill him Wait Hey listen You know you're a son of a bitch That's right You're like a lone wolf An adventure Tough butt With a sense of this Not really bro I like killing for money Yes yes I know But that's just your thing What's your problem man Nothing Of course I'm not gay It's cool man Just don't do it again Hey look I fucked three girls last night man One of them can't even walk I mean Now She could walk before She didn't need a wheelchair Look I was just checking To make sure you weren't gay bro No not a problem man I gotta go Hey Luis We're not going to walk I'm 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 not going to walk Thank God you're going to walk What? I never thought seeing you Would make things feel more heterosexual I'm going to pretend I didn't hear that sweet heart It's probably best Vabbè Fish market Eh Vabbè Speriamo ci sia Diversa gente da far fuori Che non ci siano trivia Cose varie Comunque I comandi Dell'Xbox Mi Fottono Spesso e volentieri Perché Abituato alla Play L1 L2 R1 R2 L3 R3 Qua Qua Invece Premi L E non è molto chiaro Mentre invece La Play Dice Premi R3 Che è diverso Le tue volte Va nel panico Oltre al fatto Che A B X E Y Ci sono sempre Per quelle cose Che stanno qua Alla mia sinistra Che non cambierei mai Con nessuno E niente Però Purtroppo Quando giochi Su giochi Per PC Il PC Non accetta Controller Per la Play Quindi insomma Bisogna adattarsi Mamma mia Ho visto Dieci stelle Di ricerca No No Posso fare un'altra macchina Sì Forse Bello Ora sai che c'è A questo punto A questo punto Colgo la palla al balzo Perché tanto Se ribalti l'auto Poi si è fottuto A Gita 4 Si è fottuto Ragazzi And my grandmother Raisa me Right Ah Fish market È il Pier 45 Pier 45 Ok Ok Adesso torna 7 dollari Siamo anche quasi Arrivati Che sfiga C'è mercato del pesce C'è mercato del pesce Il Pier 45 Probabile Corri Però Colorazione Niente male Che ore sono? Sono tipo Le 7 di sera Sono 9 Allora è estate Oh bello Mi piace già Mi piace già Ok Ok Potrebbe essere Una missione con Nico Forse Vorrebbe darli a Nico In effetti ha senso Infatti qua Siamo Al parallelo Di Diamonds Are Girls Best Friend Quella missione Lipa GTA 4 Si Minchia L'ho fatta Me lo ricordo Come se fosse Ieri Che palle Esattamente Familiarissimo Sto posto Che poi in realtà Potreste ecco uccidere Nico Lo sapete Ma Non vado a farlo Per questioni morali Non lo faccio Ho visto un porno Iniziare così E anche proseguire così Nico vestito sempre uguale Ragazzi Quando compare nelle altre storie Sempre vestito così Vengendo una lacrimuccia Senti Nico Una big lacrimuccia You send over the girl We leave And you pick up the stuff Entiende? Sure Show us the goods Come back to me honey Let her go Ho cantato la stessa canzone Quando ho fatto la missione Sulla storia principale Ciao E qua vediamo l'altra parte E qua vediamo l'altra parte Della missione Capito? Molto sveglio sto qua Molto sveglio sto qua Andare Chissà che guerriglia marina sarà Boh Vabbè tempi di caricamento qua Regà La via tre quarti Oddio no La stessa cosa Che ha fatto Che ha fatto Non ci voglio credere Ma come fa A stare lì Che fa stare attaccato così Ok Se n'è andato Bastava oscillare Rompe le palle al guidatore Come faceva con Nico Minchia Ho Ho anche una su GTA 5 Quando ha rubato la Z-Tide Già Ladies Half Price Che titolo umiliante Cazzo Sono questa la missione? Vabbè È troppo tempo appeso 7 si Mi facevo A farlo restare Solo 7 secondi Vabbè Va bene Va bene Io più che premere gas Il più possibile Non so cosa fare Comunque La ventitresima Anzi Ventiquattresima È andata Noi ci vediamo Per la venticinquesima La penultima La penultima Che sarà Parties Over E sarà con Rocco Pelosi Che dovrebbe Chiamarci Perché la missione per lui Non c'è Quindi Sbrigati tesoro A chiamarci Guerra di droga Paracadutismo Eh sì Eh sì Eh sì Non c'è ancora chiamato Va bene Noi intanto ci salutiamo Grazie ragazzi Like al video Iscrizione al canale Ci vediamo alla prossima Bacione da Adri Bacione da Adri Bacione da Adri Bacione da Adri Bacione da Adri